No, intanto nome e cognome sono Elena Sinigallia e vengo da Mortara in provincia di Pavia e viene qui apposta per il cimento invernale o siete qui in vacanza? Sono in vacanza da Lassio ma da anni e il cimento è comunque un appuntamento fisso da diversi anni certo Vestina a Babbo Natale, il giorno dopo Natale non poteva essere diversa e vabbè insomma per contraddistinguersi no, altrimenti sì, assolutamente sì Qual è la parte più difficile, entrare dall'acqua o uscire dopo? Nessuna, è proprio un piacere di farlo, vabbè sì certo dopo fa freddo però si può fare Quindi possiamo dire che è un buon auspicio comunque buttarsi in acqua il giorno di Santo Stefano Sì assolutamente sì, per l'anno buono sì assolutamente